MNIIII IONDAZIO Arriva una fana Fornaio mio, fornaio Che ha, il pane di farina di ANGOS, Non lo conosco, non abita qui in zona, chi è che sto ANGOS? No, la farina di ANGOS, quella con i cereali fatti di mangos, per cui? No io c'ho il pane signore, il pane casareccio, filone francese, che poi lo facciamo qui alla Carbatella non è che vi è da Parigi con la baguette lo facciamo qua ma non c'è il pane quello di granitore no, c'è il pane signora ma quello con le noci non ce l'ho col sesamo non ce l'ho, con le noci signora, quello è il torrone, lei sta chiedendo il torrone e non è un pane quello che è le noci con il sesamo è un'altra cosa come è cambiato va più al pane poi a prendere un pezzetto così questo tipo qui, un pezzo così taglio? no, taglio quello fa, signore fammo due cortelli, i miei cortelli qua che facciamo, finito lo spazio prendiamo un pezzettino guardi, che poi chi lo mangia siamo in sette infatti ma chi lo mangia in sette è in sette non lo magnate questo perché ce la fate a mangiare no perché il pane, lei ha letto che il pane, il pane da formaggio ormai tu per mangiare ci devi avere un culo così ragazzi che ci mettiamo dentro fino nel 80, nel 60 mettiamoci prosciutto 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 così il prosciutto che ne so la remanescenza proprio da cent'anni mettiamo un pata negra non ho capito un prosciutto iberico e dico facciamo tre un panino, tre etti quante ne ho mette meno che panino cominciò a tagliare a mano io quando vedo quello davanti a me che piega la roba a mano me ne vado non c'è non più tagliano sto prosciutto poi ti batte il record dalla fetta lunga che cazzo cosa devi fare perché col piede tu lo vedi ma fa così sotto il bancone che ti devi dar tempo capito tre se no dico sì un tre etti poi mi va l'occhio 14 euro letto ma ne faccia ne ho detto ma chi so mangia tutto questo prosciutto me ne fa una fetta mo mo fotocopio faccia una fetta solo ma tu veramente pensi cioè ma questo il maiale di questo prosciutto mangia le chiande eh ma ne mangia troppe però signore va tardi c'era chi era bloccato la vostra chiande